bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi non potevo ovviamente mancare il solito video con tutta la patch che è uscita proprio oggi nella mattina di oggi patch 12.50 che vede l'arrivo di un sacco di cose nuove skin ovviamente nuova ltm ma anche il primo teaser della season 13 o meglio della season 3 del capitolo 2 prima di addentrarci volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e ovviamente di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sulle news di fortnite e allora andiamo sempre a buttarci a capofitto nella prima immagine di oggi arrivano nuovi stili per alcune skin come avete riconosciuto lei è la bandoliera colore molto arcobaleno ed è un colore che vedrete spesso da questa patch in poi su fortnite perché arrivano anche altre cose e sarà il colore che caratterizzerà la nuova papaya ltm ora ne parliamo andando avanti avremo anche finalmente disponibile la variante nera e rossa della skin oro e ovviamente del suo piccone e del suo deltaplano quindi tutti i possessori della skin automaticamente potranno controllare il loro armadietto e troveranno la possibilità di modificare appunto l'outfit proseguendo ragazzi abbiamo la prima il primo indizio sulla modalità papaya questo è un un arco come vedete che ovviamente non è fatto e pensato per per killare a un uno stura lavandini davanti e farà probabilmente 5 di danno sì ma è anche vero che i giocatori avranno meno vita nella modalità questo arco si divide in tre varianti il primo è quello che state vedendo il secondo invece è già un pochettino più cattivo come vedete va un po a richiamare uno stile medievale con davanti una botte esplosiva e il terzo invece molto più cattivo un classico arco quasi futuristico con una lancia appunto all'estremità e andando avanti ragazzi sempre parlando della modalità papaya questo dovrebbe essere uno dei regali perché sì si pensa che ci siano anche delle piccole sfide dedicate alcune daranno punti esperienza ma una sembrerebbe dare questa scremata di caricamento che è molto carina va a riprendere questo coniglio in uno stile retro wave come si dice e quindi tanta tanta roba ovviamente per i collezionisti delle schermate di caricamento dei loading screen andiamo avanti perché questo invece ragazzi è una roba davvero incredibile questo è il primo teaser ufficiale della season 3 o meglio della season 13 come è scritto nei codici sorgenti di fortnite ce ne sono tre di immagini la prima è questa e come vedete ci sono tantissime cose di cui si potrebbe parlare lo squalo gigante che è sotto alla banana che sta nuotando lascia molto intendere quello che già si è detto ma che non è mai stato ufficializzato ovvero sia che la mappa e la season saranno ambientate per la maggior parte in acqua o comunque l'acqua sarà sicuramente l'elemento principale la cosa da notare anche in basso l'ombrello con le fiamme non saprei ancora dirvi il perché ma nel video news di domani ovviamente scoprirete di più secondo teaser seconda immagine miascolo con i braccioli quindi anche lì andiamo sempre sul discorso acqua e il terzo invece ragazzi addirittura un edificio sopra un enorme galleggiante questo potrebbe voler dire se noi notiamo anche l'immagine sotto con la staccionata che appunto la mappa in parte verrà sommersa e secondo me si alzerà il livello dell'acqua nella parte centrale e sommergerà parti dell'agenzia e zone limitrofe ovviamente tanta roba manca ancora un mese ne scopriremo delle belle non vi preoccupate proseguiamo perché un'altra cosa che è stata trovata nei file di gioco è il ritorno delle granate scorengione come le chiamavo io le puzzolenti ragazzi le conosciamo tutti quindi non c'è bisogno che mi ci perdo sopra lo stack sarà da 6 e potremo appunto trovarle nei forzieri immagino anche nell'utaterra ovviamente andando avanti abbiamo invece un'arma anzi l'arma principale della nuova papaya ltm si chiama anzi allora è un lancia granate l'avete già visto però non lancia le granate abbiamo ah non ho messo purtroppo i dati va bene fa nulla questo me li ricordo a memoria 5 di danno per ogni colpo che spara con un caricatore da 6 e 3 secondi di ricarica il discorso che fa 5 di danno mi lascia pensare che appunto giocando questa modalità la vita non sia di 100 e probabilmente non esisterà la possibilità di scildarci è una specie di grande mappa da paintball insomma per renderci l'idea ne scopriremo di più non appena lo scopriremo appunto andando avanti ci sono anche i nuovi balletti ragazzi 11 nuovi balli in arrivo tanta roba che non me ne viene in mente nessuno in questo in questo caso che mi faccia impazzire solamente quello che fa sì con la testa potrebbe essere utilizzato per comunicare se non sia la chat vocale e gli altri invece li vedremo nel corso di questi giorni ed eccola qua ragazzi non si sa perché è arrivata dopo i balletti ma la mappa di cui vi parlavo poco fa della modalità papaya come vedete è una mappa tutta nuova e penso che non sia neanche molto grande dovrebbe essere appunto notevolmente ristretta al centro sempre un edificio principale un fiume che gira intorno e tanti punti di interesse che sinceramente ancora non riusciamo a capire i colori diversi mi lasciano pensare che possa essere giocata in squadre da quattro probabilmente o in coppie ma da quattro squadre quindi non lo so non lo so è comunque molto interessante arrivano cose anche se non dovevano arrivare quello di cui vi parlavo prima abbiamo la stessa la stessa arma con i vari dati ma proseguendo ragazzi questa è un'altra immagine veramente incredibile perché è stato trovato un nuovo starter pack e la cosa ci ha un pochettino spiazzato perché lo starter pack di solito è 1 per season come è sempre stato dalla season 4 ho ricordi dell'avviatore lì che non so se prima ce ne fossero altri starter pack ora si c'era il 6 nella season 3 il tizio Elite va cagher comunque starter pack ragazzi probabilmente al prezzo di 4,99 secondo me è semplicemente stato inserito ma non arriverà in questa season dovrebbe essere già quello della prossima staremo a vedere magari si sono portati avanti col lavoro e l'hanno voluto inserire e proseguiamo per tutti gli amanti della modalità knockout che secondo me è davvero da provare chi non l'avesse mai fatto perché è super divertente e ti aiuta tanto per comunicare col tuo teammate e migliorare la mira arrivano gli ultimi potenziamenti ragazzi vi ricordo siamo fermi a livello 40 si arriva al 45 inserimento di due armi mitiche arco e drum gun arrivano le scorengioni e arrivano dei nuovi perk che ovviamente ci lasciano pensare al doppio salto alla velocità nel lime alla possibilità di avere un po più legna al recupero di scudi nel tempo e terminiamo ragazzi con una carrellata velocissima di immagini queste sono altre immagini inserite nei file ancora non decriptate come vedete ci sono la seconda immagine quella dopo la mappa orsi contro gnomi probabilmente potrebbe essere o uno spray o addirittura una qualcosa che arriverà all'interno potrebbe per quanto mi riguarda essere anche un nuovo poster non ne ho assolutamente idea qua sotto invece abbiamo di nuovo uno gnomo in uno spaccato e poi tante varie texture per chissà cosa andiamo avanti perché invece per tutti quelli che pensavano e speravano arrivassero le nuove sfide eccole qua ragazzi un set enorme semplicissime ovviamente di sfide che probabilmente daranno tutte 55.000 punti esperienze il che vi potrebbe permettere di recuperare un sacco di livelli e di ambire a ricevere la gold pili ne abbiamo veramente un sacco penso che si parli di almeno 25 30 sfide quindi danneggiare i nostri avversari aprire dei forzieri visitare dei luoghi non hanno neanche bisogno di farci dei video perché sono veramente basilari ma la chicca l'ho tenuta per ultima ragazzi e chiudo il video facendovi vedere questa immagine e voi giustamente dite e che cosa è questa roba signori 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 questo è uno spaccato del quad crusher quindi molto probabilmente non sappiamo se nel finire di questa season o nell'inizio della prossima ritornerà il quad ci auguriamo davvero tutti che non sia in versione nella ltm ma non credo perché dico che è un quad perché lo riconosciamo da quel oltre del nome del codice sorgente ma guardate ve lo ricordate le ruote che avevano le spirali all'interno ecco quello è l'elemento che ci fa capire che questo spaccato è proprio un quad là in alto vediamo il muso più in centro vediamo la seduta e poi tutti i vari ammortizzatore e i pezzi che lo compongono insomma ragazzi una patch 12.50 che promette davvero benissimo tante le cose e tante ne arriveranno quindi vi invito a tenervi sempre aggiornati con i miei video news che arrivano ogni giorno di fortnite io vi ringrazio per aver guardato questo video i ragazzi che mi stanno guardando in live adesso su twitch non scappino perché io mando la chiusura ma rimango ovviamente in live voi intanto mi trovate su twitch ciao ciao